Non è un'attività per il tuo tempo? 3, 4, 1, start! Non è difficile, non è difficile da scrivere il tuo tempo? Oggi mi trovo in un luogo che a definire unico è quasi riduttivo. Quella che vedete alle mie spalle infatti è l'entrata del Matsushiro Han Bunbugakko, la scuola delle arti marziali e letterarie del feudo di Matsushiro, a Nagano. Siamo qui per intervistare una persona molto particolare. Aperto nel 1855, il Bunbugakko del feudo di Matsushiro si estende su una superficie di oltre 3000 metri quadrati. È composto da 10 costruzioni, 6 delle quali predisposta allo studio delle arti marziali e letterarie. Questo è il Kyu Dojo, dove veniva praticato il tiro con l'arco. Questo invece è l'antico dojo di Jiu Jutsu del feudo di Matsushiro. La scuola qui praticata era la Kito Ryu, una delle due tradizioni da cui si sarebbe originato il Judo moderno. Tuttavia, nel 1868 il dojo di Jiu Jutsu venne modificato in un poligono di tiro, dato che le autorità del feudo ritennero l'artiglieria più importante della lotta corpo a corpo. Il tempo qui sembra essersi fermato veramente al periodo Edo. L'atmosfera che si respira è quasi surreale. Questa invece è la sala per lo studio delle arti letterarie. È così tranquilla che ora un libro ci starebbe proprio bene. Quello dietro di me è il Kenjutsu Show, la sala di scherma. Il nostro ospite ci aspetta all'interno. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.